Ciao a tutti ragazzi sono Ren e benvenuti in questa nuova serie Allora come vedete siamo su un modpack versione di minecraft 1.5.2 Abbiamo 103 mod e quindi niente direi di iniziare subito Prima di tutto volevo dirvi che questa serie molto probabilmente potrebbe subire dei cambi regolari Potrebbe cambiare da questo modpack a un altro modpack completamente Perché come vi ho detto io ho problemi con l'FTB launcher Quindi potrebbe essere interrotta sia al primo episodio Cioè non lo caricherei neanche quindi Che magari il quinto o sesto episodio si interrompe Spero di no, vedremo Allora direi di iniziare un nuovo mondo Lasciamo perdere questo E il nuovo mondo lo chiamiamo Il nome del pacchetto ovvero Stellarcraft Che è un pacchetto privato dell'FTB Se volete diciamo Come si dice Sapere come si fa Vi faccio subito vedere Se non combino casini Mi sa che combino casini Quindi non vi faccio vedere Comunque basta andare su Inserisci codice pacchetto O cose del genere E mettete il codice Che non so se posso darvelo in un video Quindi al massimo chiedetelo in privato Scrivetemi nei commenti Che magari vi rispondo in privato Ma non so Vedremo Survival Perché ci sono solo queste tre Bonus chest on Abilitiamo i trucchi I trucchi perché Avendo la Zans minimap mi pare C'è il teletrasporto nella minimap E quindi bisogna avere i trucchi attivati Quindi Create new world Iniziamo Adesso ci metterà un bel po' Per iniziare intanto io guardo Se riesco a farvi vedere Come fare Cioè come si può fare Ma mi sa di no Intanto se inizio mi fa un piacere Ecco Loading world Converting world E Ci vediamo dentro il mondo Vediamo Building terrain O uccidere minecraft Cos'è sta roba? Ho cliccato col tasto destro Sull'icona Quella Dell'icona E mi è uscito Uccidere minecraft Vabbè un casino di roba Lasciateci Lasciamo stare Ehm Full of stars Bene Ehm Quindi spero che questa serie vi piaccia Avete Potrebbe subire Bruschi cambiamenti Non per colpa mia Per Che per cause di forza Maggiore Diciamo Questa versione è la 2.2.2.2.6 No 2.2.6 Che ho letto Sono stati fatti Bug fix Ehm E soprattutto ho scelto Questa versione So che non è una delle ultime Perché L'ultimo mod Perché è 1.6.4 Mi pare Però non ho scelto Quella versione Perché Ehm Qui dice che È quella che si avvicina di più All' All'FTB Ehm Quello Il classico Una delle prime versioni L'1.4.2.7 Il Direwall 20 Quindi ho scelto questo Perché se si ci avvicina davvero Io conosco Lo conosco Quel pacchetto Conosco quelle Quelle mod E quindi Spero che Si ci avvicini davvero Io spero che parta Ehm Non so Un'unica cosa che mi Mi aspettare a fare Aspettare un po' Ok Sta iniziando forse Probabile Ok Eh sì Buonanotte Cos'è Armored Statute Hood Comunque Eccoci Appena arrivati Ehm Si lasciamo un attimo Generare il mondo Questo non è lag Eh sì È lag Però Di quando si genera il mondo Fortunatamente non è lag Ecco Come avete sentito Tutti gli animali Si sono spostati Ok Forse si è generato il mondo Comunque penso che questa visuale Posso andare più che bene Sì 48 fps 60 Sì Ehm Ci sono di cali drastici Al massimo Ehm Talerò l'Optifine Vedremo se non c'è già Ah Una cosa che c'è in questo pacchetto Sono i cappelli Quindi Iniziamo a uccidere gli animali Il vostro audio dovrebbe essere giusto Il mio è estremamente alto Pecora Dammi la bandiera dell'Inghilterra Ok Ehm In teoria voi iniziate Che c'è un messaggio Tipo Ehm Qua al centro E Vi Vi dice in pratica Della Ah Recipe mod No Cheat Mod Recipe Ho detto Vi dice Della voxel map Che sarebbe quella in alto a destra Io ho già impostato tutto Se no Dovete andare su Controlli Ehm In teoria la M E togliere tutte le M Che ci sono in contrasto Diciamo L'unica che dovete lasciare E Questa qua Se la trovo No Ecco il begliato No escape Ah no Giusto L'ho tolta Io ci ho messo il trattino Comunque Quella che dovreste lasciare Quindi Dobbiamo trovare Minus Min 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 E quindi io mi sono impostato già tutto Come vediamo possiamo settare un waypoint Tipo, vabbè, così No, facciamo una cosa di sensato Io tolgo la riga che viene in alto perché non mi piace Sarebbe questa, vi faccio vedere Perché non mi piace, si può anche cambiare il colore Per farla si può anche togliere così E non c'è più E noi per teletrasportarti clicchiamo sul waypoint che vogliamo E facciamo teleport to E ci teletrasportiamo nella zona Quindi direi Non mi fa uccidere le piccole Ricarichiamo i chunk Pecora Non me la vuole far uccidere Oh, cos'è sta cosa? Non mi fa più cliccare col sinistro Sti bug Opzioni, controls Attacca, ecco, cosa avevo combinato Dove l'ho messo l'altro button uno? Qua Cinque Oh Me lo sentivo che era quello, eh Ok, altra lana Ah, comunque Non vi ho detto Material Material Send you In chi bioma stiamo? Hot Springs Hot Mi prendi il giro? Hot E c'è la neve? Ah boh E comunque Material Material Send you Della Tinker's Construct In pratica abbiamo A ver, ci spiega tutto Poi lo vedremo Intanto voglio vedere Ehm Se sono cambiati I crafting Della industria Craft Spero tanto di no Che tipo ci sia ancora Le fine ed iron Ok, perfetto Da non fare quelle cose Tipo come si chiama Il copper plate Eh, là Ok In che difficoltà Siamo Peaceful No, mettiamo Normal Perché Noi mettiamo Normal Abbiamo la Tricapitator Ragazzi Ehm Vi faccio subito Vedere Basta prendere Due pezzettini Di legna Io ho settato La Diciamo Crafting table Quella pocket Quella in terra Con la C Ehm Se non sbaglio Sì Ehm Vabbè Trasformiamoci un attimo Il legno Possiamo anche farlo lì Ehm Facciamoci un'ascia Facciamo i bastoncini C per prenderli Di nuovo Ehm Nel mio caso Allora L'ascia Si fa Due bastoncini E al contrario Se li mette da solo Ehm Basta che voi createla L'ascia Come la farete voi Lui ve la Imposta automaticamente Woodenax Iniziamo A A Scavare Sì Gli oggetti sono più lenti Perché questa è la Tinker Se mi impara Ancora No La Metalurgi Metalurgi 3 Si 3 core Che fa Andare lente Ehm Le cose Di base di minecraft Diciamo In teoria Si potrebbe anche Cambiare dal config Ma Non so Per il momento Lasciamo così Molto comoda Tricapitator Ehm Non ha la versione Diciamo Quella vecchia Che E ci mette un secondo A tirare giù Tutto l'albero E non vi consuma L'ascia Cioè vi consuma Solo se avete rotto Un pezzo Ma questo è come Se voi rompete Tutto l'albero Ovviamente Le foglie Non ve le conto Questo qui cos'è Un pino Pinewood Vediamo che legno da Ah ecco Nei altri capitator Si possono cambiare I config Per far funzionare Tutti gli alberi Anche se mi sembra Che funzionino già Tutti Questa cos'è Tin Si Ci ho giocato Vediamo un po' Che legno da Uh Bello Mi gusta Mi piace Ehm Ci ho giocato Un po' di tempo Appena uscita Ma poi L'ho lasciata lì E ho detto Boh Lasciamola lì E adesso È venuta l'ora Di farci Una serie Allora Facciamoci subito Un piccone Vediamo se mi metto Dall'altra parte Funziona Giusto Ehm No Meglio farlo Normalmente Eh Sì È molto più comoda La crafting table Normale Ve lo dico Ma se Nel caso Non abbiate Voglia di farvela Potete usare benissimo Anche questa Che non funziona male Cioè Non funziona Sì Non funziona male Intendevo dire Eh Però Dovete farci l'abitudine Diciamo Concediamo questa mucca Colpi di Ascia Che adesso Che mi viene in mente Ce l'ho E ci sono i Timmerge Indicator Plus Plus Ho sentito Uno zombie Prendiamo Un po' di cobblestone E poi direi che Per iniziare Faremo Magari Casetta Il copper Non lo prende Lo da Thermal Sì Penso che in questo mod Perché ci sono 104 pagine Quindi davvero tante Cos'è sta roba Hybrid Solar Helmet Bene Quindi non Penso di Fare tutte le mod Diciamo Perché Non le conosco Tutte Andiamo solo Che a pagina Pagina a caso Vabbè Railcraft Sì Ehm Questa la conosco Vabbè Ci sono delle mod Che Tipo non le conosco Tipo Adesso Andiamo a vedere Tipo questa Che c'ha Questi materiali Queste mod qua Non l'ho Quasi mai visto Ho visto un po' Questa La bibliocraft Diciamo Ehm Ma le altre no Quindi Allora Mettiamo Un inizio Pagina Perché Mi piace Ok Ah e cosa Che adesso Ho visto Che si possono Fare gli stick Di cobblestone Adesso sto zombie Mi dà fastidio Com'è che si tolgono Oh Certo Ehm Sulla mappa Intendevo Vediamo un po' Ehm Oh No Fammi La mappa Piccolina Ok Questa Non vorrei fosse Il time Biome Spero di no No Omnimo Svud Oh Sento un ragno Non voglio Già morire Questa qui È acqua Di quella Maledetta No No È acqua Normalissima Che brutto Sto bioma Non mi piace Proprio per niente Qua vedo Un creeper Più o meno là Ma noi Non ci interessa E cerchiamo Di andare Perché Cerco la linea Blu non so In su A cercare Qualche bioma Decente Ah Intanto che ci siamo Possiamo farci Un piccone Di pietra Ehm Facciamo Con gli stick Di cobblestone Già che ce l'abbiamo Che sono Ne dà meno Ma la cobblestone Costa meno Del legno Diciamo Un bel piccone Ah Ho sbagliato A C Ok Uno lì Uno lì Poi Lì Lì E lì Sì Me ne ha preso Solo due C Non me l'ha fatto Perché non me l'ha fatto Uno Due Uno Due Tre Non si poteva fare Anche con questi stick Scusa Piquex Ah forse solo le torce Vuoi dire solo le torce Perché le torce Non so Ho visto Che Le torce Ho visto da un video Che si possono fare Di quel materiale Ehm Sembrava anche picconi Vabbè Facciamoli con Quello di legno Dove è finita la pecora Dove è finita la pecora Uh ragazzi Quest'acqua Quest'acqua è molto importante Per l'inizio Perché Ehm Perché ci serve Si può fare un secchio di legno Allora Facciamo così Ehm Crafting table E proviamo a fare un secchio di legno Ehm Bucket Vediamo Se si può fare un secchio di ferro Questo Latex Cos'essero Che rosotto Oil Sì ma mi interessa il bucket Vuoto Il che mod è? Plug in for forestry Plug in For For No Plug in e basta va Se no ci siamo tutto il giorno Ehm Il secchio vuoto non c'è Vuol dire che il segno è di un'altra mod Il secchio è di un'altra mod Nickel Molten Bucket Ehm No Ehm Non ho idea Cocoven Cosa mi interessa il Cocoven Via Ehm Allora facciamo Un piccone Con questi Ci voglio riprovare l'ultima volta No Non ce lo fa Perfetto Così si Allora Direi che Passiamo la notte Ehm Cioè intanto abbiamo un letto però La notte la vorrei passare Qui vicino a questo tipo di acqua Intanto vediamo se le torce si fanno In questo modo Ecco le torce si E hanno la texture tipo cobblestone Diciamo Andami piccolo Ehm Prendiamo questo copper Che ci servirà per l'industria craft E non solo Ehm Sono indeciso tra iniziare O con la thermal expansion O con Ehm Ehm Industria Allora guardate Noi ci mancano Uno, due, tre, quattro Cinque cosciotti Noi ci buttiamo qua dentro Guardate Ci sta rigenerando la fame Ehm E' come avere Regeneration E Ehm No Worsement Che in pratica ci ricarica la fame Comodo eh E questo non ci costa niente Si può fare l'acqua infinita Si chiama Spring in water Se non mi sbaglio Mettiamo water Ehm Questa Si Spring water Spring water E anche con i secchi Quelli lì che non sono Latex Prima era venuto scritto Se non mi sbaglio Ah ma sarà Il materiale Ehm Niente Vabbè Intanto ci scaviamo Un po' di pietra E facciamo il letto Ehm Letto nell'acqua Si può fare questa cosa Uh Bello Ehm Legno Prepariamocelo Si Non farmi volare ogni volta però Adesso sta a vedere Che metto il legno Dalla parte sbagliata Spero di no Cos'è sta roba Oh mio dio Allora il legno Mettiamolo lì E questa Lì C Grazie Ne avevo proprio bisogno Non mi fa mettere le tre Il letto Il letto in acqua Allora noi ci scaviamo un bello spazio qui E ce lo mettiamo qua No Non il copper Il letto Già che ci siamo Rigeneriamoci l'ultimo Cosotto Forse non disgenera Fino all'ultimo No Comunque è davvero Davvero E' interessante Questa mod Che è della 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 Bion supplenti Quindi niente Boh Bene Mettiamoci subito il cappello che abbiamo trovato E' da Norvegese Vediamoci Belli Sì Non si intona per niente con la mia skin Ma E' l'unica che ho Ehm Ho schiacciato per sbaglio il tasto F6 Non vorrei Aver acceso il Il cosa Allora mettiamoci un weapon con Acqua Sì acqua Acqua Acqu Oh Magari Ehm Azzurra Che ne so Dato un colpo al mouse Almeno ci ricordiamo che l'acqua azzurra è qua Un altro maiale E una Cioè sì un altro Uh quello col computer mi interessa Frena Dove vai Maiale non scappare Abbiamo il piccone Dove sei Vieni qua Non scappare Ok Eh mi interessava più che altro il cappello Ma la tutta Sì E anche la pecora con il computer Vediamo questo Top hat Bello Però a me piace più quello del computer Chissà perché per un momento mi sembrava Che ci fosse scritto qualcosa Nel Nei anelli Ok E' giunto il momento di abbassare La nera del distance Almeno per questo ultimo episodio Uh computer Vediamo Bello Vediamo la lana Quella lì cos'ha in testo? Uno dog? No Una mela Vieni qua Non scappare Su che non ti faccio niente C'è pure finito il piccone addosso Fez Non so cosa sia Allora un po' di cibo lo abbiamo Direi che Eh Per il momento Possiamo andare bene così Ci facciamo un attimo Una fornace per cuocerlo Bene Troppo bello Eh no Voglio fare la fornace io Non mi ci trovo proprio niente con sta craft L'ho presa? Sì Non da suono quindi Sembra come se non la prendessi Vabbè ma per il momento Non cuociamo niente Ehm Direi che possiamo guardare un po' la mappa La mappa Ehm Non prenderei più di tanti materiali Se non quelli proprio essenziali Tipo tin Copper Mentre andiamo Tin copper e ferro Perché Eh so che Il copper e la tin Ci serviranno E anche tanto Il ferro Anche Ma Del resto Non penso Ci servirà più di tanto altra roba Facciamoci un po' di torce No Non si possono fare Giusto Ehm Perché se no Ho un altro pozza di acqua Quindi non è più così tanto Ehm Imponiamo la tin Non è più così tanto Come dire Come si chiama Ehm Rara Ecco Se si trova così Non scappiamoci mai sotto i piedi Mi raccomando Un consiglio Da Da buoni minecraftiani Minecrafter Mine Boh Ehm Da buoni giocatori di minecrafter Ecco Lascio del carbone Ehm Niente Direi che Per questo episodio è tutto Non guardiamo l'enderman Uh Lascio due appatite Ma appatite Se ne trova un casino Quando si Impatti Ehm Quindi ci mettiamo Appatite Direi che Ci vediamo nel prossimo episodio A Ehm Andare a cercare Dei biomi Un bioma Per costruire la casa Intanto Ne esploriamo Due o tre Ehm Giusto per fare qualcosa Mi dispiace Se questo video È venuto Ehm Particolarmente lungo Perché Cioè Non particolarmente lungo Ehm Particolarmente noioso Cos'è Una miniera Sì Perché c'è stato L'interruzione Cioè Ci ha messo Un Un Casino mondo a caricarsi Quindi Da Aden è tutto C'è stato C'è stato Grazie a tutti.